Eccoli ai blocchi, partenza lanciata accompagnata dagli applausi del pubblico che segue coinvolto questo 100 metri veramente entusiasmante con Simone Collio che si protende in avanti con grande energia e potenza. Simone ha una marcia in più, si invola sul traguardo conquista. La vittoria finale precede sul finish i suoi compagni di squadra Stefano Dà, Castello e Stefano Arceschi. E' stata una bellissima gara, mi sono divertito molto, la pista è veramente ottima, è velocissima. Ringrazio l'organizzazione, ringrazio il meeting perché è stato veramente bello.